La sospensione è nata da dei semplici post pubblicati sul social network Facebook da questa dipendente ASL in cui esprimeva un proprio pensiero sull'opportunità di eseguire i tamponi ai bambini piccoli e esprimeva anche la necessità di eseguire gli esami autoptici sui cadaveri di coloro che venivano dichiarati morti per Covid dal fine di verificare se effettivamente le cause della morte erano riconducibili su una Covid in più la lavoratrice fuori dall'area di lavoro su social network con l'utilizzo di questo strumento aveva contestato anche una tesi negazionista del giornalista Diego Fusaro e quindi non assumeva assolutamente una posizione negazionista ma esprimeva un proprio libero pensiero Il giudice di lavoro di Arezzo non l'ha reintegrata perché non è stata licenziata ma gli era stata erogata una sanzione della sospensione dalle funzioni senza retribuzione quindi sanzione molto grave considerato anche il fatto che la signora è una lavoratrice madre che deve mantenere da sola la propria figlia quindi il giudice di lavoro ha annullato questa sanzione ritenendola sproporzionata e non fondata perché questi posti non offendevano assolutamente l'azienda ASL e abbiamo avuto notizia che la ASL ha fatto appello a questa sentenza tramite la stampa perché ancora non mi è stato notificato niente Non ha nessun provvedimento lei in questo momento? In questo momento no, però ho avuto conferme ufficiali e ufficiose di questa impugnazione ma su questo siamo assolutamente tranquilli perché questa sentenza è stata fatta bene dal nostro giudice del lavoro, è stata motivata in maniera corretta e questi posti assolutamente non sono negazionisti né tantomeno offendono l'immagine dell'azienda ASL per la quale l'operatrice lavora per cui siamo assolutamente tranquilli Sicuramente il tema è molto caldo di attualità e quindi ci sono a livello italiano tanti casi questa sentenza per questo è molto importante perché va a sancire una libertà fondamentale di ogni cittadino e che è quella di esprimere liberamente il proprio pensiero e in questo momento caldo in cui ognuno di noi si sente un po' colpito dalle varie misure è giusto che anche i lavoratori nella loro vita privata, al di fuori le proprie funzioni si sentano liberi di esprimere il loro pensiero senza per questo venire controllati dal proprio datore di lavoro e poi sanzionati in maniera così grave I casi ce ne sono sicuramente tanti e quindi vedremo gli sviluppi anche della giurisprudenza in questo senso Grazie mille! Grazie mille!